Musica Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, test sierologici a tappeto per il personale scolastico. Chi lo vuole fare è su base volontaria ed è gratuito, l'USL di Ferrara si appresta così la prossima settimana a fare questi test agli insegnanti, a tutto il personale che lavora nella scuola della provincia ferrarese. Questa è una delle novità di oggi, scuola che si sta preparando a ripartire il 14 settembre prossimo, continua il nostro viaggio all'interno dei plessi estensi per vedere come si tornerà nelle aule. E poi lunedì partono i servizi educativi da 0 a 6 anni, sono queste alcune delle novità di cui parleremo a breve. Ricorderemo però purtroppo anche Filippo D'Averio, una figura culturale molto importante a livello italiano e internazionale. Scomparsa oggi era molto legato a Ferrara e ne faremo un ricordo. E poi l'ex MOF della città di Ferrara diventerà la casa del cinema. Sentiremo come, ma partiamo come sempre dall'aggiornamento dei numeri del coronavirus, dell'epidemia da Covid. Sono due i nuovi casi nel ferrarese rispetto a ieri, sempre ieri, rispetto all'altro giorno erano sette, quindi sono numeri in calo e i due nuovi casi sono senza sintomi. E l'aggiornamento in Emilia Romagna, qui circa gli stessi numeri di ieri, su quasi 11.700 tamponi eseguiti, 107 sono i nuovi positivi, di cui circa la metà, 58, sono senza sintomi. E 36 casi sono stati individuati nell'ambito di Focolai, già noti 27 i casi di rientro dall'estero e sono circa gli stessi di rientro da altre regioni. In Emilia Romagna, oltre alla metà dei casi, 62, erano già in isolamento al momento del tampone. Tra i dati più interessanti, quello dei guariti, perché salgono rispetto a ieri, più 65 e non si registra nessun decesso ancora, per fortuna, per complicazioni. A portate da coronavirus e il maggior numero di nuovi casi in regione si registra nelle province di Modena, Bologna e Ravenna. Sono questi i dati accertati oggi a livello epidemico. Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono, quindi cure ospedaliere o risultano prive di sintomi e sono quasi 3.000 in regione, sono in aumento rispetto a ieri e rappresentano queste il 95% dei casi attivi. Quindi la maggior parte delle persone sta passando la quarantena e l'isolamento nella propria abitazione. Anche i pazienti in terapia intensiva rimangono bassi. In regione Emilia Romagna sono 10, ma continueremo ovviamente ad aggiornarvi per capire come si sta muovendo la curva epidemica. Come detto però è iniziato da tempo il conto alla rovescia nelle scuole. Continua il nostro tour alla vigilia della ripresa delle lezioni in classe. Questa mattina a riceverci è stata la professoressa Maria Gaiani che è preside dell'Istituto Comprensivo Filippo De Pisis. Sentiamo. Continua il nostro tour nelle scuole ferraresi alla vigilia della ripresa delle lezioni in classe. Questa mattina a riceverci è stata la professoressa Maria Gaiani, preside dell'Istituto Comprensivo Filippo De Pisis. Cinque plessi, tre di scuola elementare, un in città, due nel forese, due di scuola media di primo grado, a Ferrara e a Viale Crasnodar e a Porotto. Noi ci siamo preparati per riprendere in sicurezza le lezioni in presenza, dice la preside. Non tutto, oggi è già pronto, ma siamo addestrate alla flessibilità. Fortunatamente nei nostri edifici non è stato necessario fare interventi di edilizia importanti. Un unico edificio ha i lavori in corso, la Matteotti, perché necessitavamo di allargare quattro aule. Tutti gli altri edifici hanno delle aule capienti a sufficienza per poter aspettare in sicurezza i ragazzi, per cui sono semplicemente state fatte degli spostamenti di aule, di banchi, di qualche arredo, neanche tanto in sostanza. Per il resto la capienza fortunatamente delle nostre aule era tale da consentire la sicurezza del distanziamento. E i banchi? I banchi sono stati ordinati perché noi qui alla depisis sede di Ferrara abbiamo una sezione sperimentale in cui lavoravamo per aree, per isole di lavoro, per cui banchi, tavoli grandi di lavoro. Questi non saranno più utilizzabili, abbiamo fatto l'ordinazione dei nuovi banchi al Ministero, siamo in attesa, abbiamo ordinato 90 banchi, 90 posti monobanco. Con le ratelle, mobili? No, 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 no. Io ho ordinato banchi tradizionali, siamo solo in attesa della consegna, speriamo che giunga in tempi sufficienti per l'avvio dell'anno scolastico. Il Ministero ha parlato di entro il 31 ottobre, ma a me servono entro il 14 settembre, perché se no i ragazzini, oggettivamente, in questo caso non saprei dove accoglierli. Nell'attesa delle 90 sedute monoposto e dell'assunzione di alcuni docenti che la scuola potrà decidere sulla base dello stanziamento messo a disposizione dal Ministero per le singole scuole, attraverso l'ufficio scolastico e regionale, la preside ci parla poi del lockdown, come di un'esperienza importante di sperimentazione della didattica digitale iniziata con grande rapidità e già a regime i primi di marzo, con docenti preparati e la distribuzione già entro Pasqua di un centinaio di dispositivi informatici per gli alunni che ne erano spravvisti. Nelle scuole che dirigo, dice la professoressa Gaiani, cioè cinque plessi, tre di scuole elementari, una in città e due nel Forese, due di scuola media di primo grado, a Ferrari e Biale Crasno, a Porotto, in queste scuole, dice Gaiani, abbiamo lavorato intensamente e se non succedono imprevisti riprenderemo le lezioni senza ansia, dice, poi naturalmente verrà verificato se si è riusciti nel compito dalle varie istituzioni. Intanto alla scuola elementare Matteotti si sta ultimando l'ampliamento di due aule. Non c'è ansia né preoccupazione nella professoressa Gaiani, preste dell'istituto comprensivo Filippo De Pisis, alla vigilia della ripresa delle lezioni il 14 settembre prossimo, se non quella che accompagna inevitabilmente il debutto in situazioni nuove, come è l'inizio di un anno scolastico all'insieme dell'emergenza Covid. Noi abbiamo ipotizzato di poter dare la medesima offerta formativa che era stata programmata in sede di orientamento lo scorso anno e che nell'anno scolastico 19-20 è stata data. Vedremo che cosa accade. Noi abbiamo una palestra che ha le misure utili alle gare di basket e di pallavolo di campionato, per cui è molto ampia e poi abbiamo sempre nel nostro edificio qui alla secondaria De Pisis di Ferrara un'altra palestra dove è allestita l'arrampicata. Nelle altre scuole abbiamo la palestra Matteotti e poi c'è la nuova palestra di Porotto che serve la scuola primaria e la scuola secondaria e a Fondoreno abbiamo uno spazio ricavato all'interno dell'edificio, una grande aula è stata trasformata in palestra ed è sempre a nostra disposizione. Rispetteremo il distanziamento, l'igienizzazione, gli accessi diversificati, il numero contingentato di alunni nelle aule che fortunatamente avevamo a disposizione, tranne che alle elementari Matteotti dove il comune sta realizzando l'ampliamento di due aule. Come vedete queste qui sono le opere di edilizia leggera, cosiddetta, che sono state fatte dal comune e stiamo aspettando che completino i lavori. Sono due aule al piano terra e due aule corrispondenti al primo piano perché avevamo le nostre aule che potevano contenere fino a 21 bambini, ma noi abbiamo delle classi che superano questo numero, per cui è stato necessario ampliare le aule utilizzando, vedete, un metro di questo corridoio. In questo edificio sono previsti tre varchi di accesso e le classi entreranno con due turni d'entrata, per cui c'è un distanziamento di cinque minuti tra un gruppo e l'altro in modo che lo stesso varco non venga occupato contemporaneamente da troppe classi, da troppi bambini. Quindi l'inizio della scuola si avvicina e l'azienda USL di Ferrara aumenta la disponibilità di test sierologici a disposizione di tutto il personale scolastico ferrarese. Nuovi posti per i test sierologici volontari e gratuiti a disposizione di tutto il personale scolastico ferrarese. Aumenta la disponibilità da parte dell'azienda USL di Ferrara che nei prossimi lunedì, martedì e mercoledì dalle 14 alle 18 nell'ambulatorio 1 a punto prelievi settore 3 della cittadella San Rocco di Ferrara in Corso Giovecca, effettuerà i test rapidi prorogabili in caso di necessità ulteriori anche nei giorni successivi. I test sierologici rapidi sono per tutto il personale delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private, paritarie e degli istituti di formazione professionale. Da giovedì 3 settembre alle 12 ci si può prenotare sul sito dell'azienda USL di Ferrara e in caso di positività al test, entro 24 o 48 ore, il Dipartimento di Sanità pubblica provvede ad effettuare il tampone e attivare così le procedure conseguenti sulla base dell'esito. È ufficiale poi che da lunedì, lunedì 7 settembre, ripartono a Ferrara in città i servizi educativi da 0 a 6 anni. Confermato per lunedì prossimo, 7 settembre, l'inizio delle attività dei servizi educativi per bambini tra gli 0 e 6 anni del territorio comunale di Ferrara, il piano di funzionamento dei servizi è stato condiviso martedì dall'amministrazione con i sindacati dei servizi comunali e con le rappresentanze delle cooperative, legacope e confcooperative. Sono state recepite tutte quelle che sono le linee guida nazionali, spiega l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Ferrara, Dorota Kusiak. Stabilità dei gruppi di bambini con operatori di riferimento e necessità di evitare la mescolanza tra gruppi diversi, queste le necessità che hanno ricadute sia a livello di organizzazione che di spazi, ora in fase di allestimento. Il numero del personale verrà poi potenziato per rinforzare anche i supplenti, ogni gruppo di lavoro, racconta Kusiak, si organizzerà per fare l'accoglienza con triage e con tutta la dotazione che serve per la misurazione della temperatura e quanto necessario. Per i prossimi giorni sono già stati convocati gli incontri con le famiglie, alle quali verrà illustrato in dettaglio il nuovo protocollo sanitario, le modalità di accesso alle strutture e i comportamenti da tenere. Dobbiamo cambiare totalmente argomento, oggi purtroppo è venuto a mancare la notte scorsa Filippo D'Averio, una figura culturale di spessore nazionale e internazionale, D'Averio era di Milano, abitava Milano, aveva operato anche molto a Milano ma tutta Italia e anche a Ferrara con la città estense D'Averio era molto legato, allora noi abbiamo fatto questo ricordo di Filippo D'Averio che è scomparso all'età di 70 anni. Sapevamo che era malato, ma abbiamo voluto credere che ce l'avrebbe fatta e sarebbe tornato a raccontarci le città alate, la storia e la bellezza del nostro paese con quel suo inconfondibile modo, metafra il serio e il facetto. Attraverso le sue trasmissioni televisive Filippo D'Averio ha fatto conoscere agli italiani una cultura fatta di vicende, alte, basse, personaggi del quotidiano, aneddoti curiosi, parole nuove arcaiche, in sostanza il linguaggio della realtà. A Ferrara, dove è venuto diverse volte e alla quale dedicò nell'ottobre 2012 una memorabile puntata di Passepartout, storia di una famiglia per bene, protagonisti degli estensi, lo ricordiamo in un vivacissimo incontro e click forward organizzato al mercato coperto di Santo Stefano da Città della Cultura a Cultura della Città, il 6 ottobre, sempre nel 2012, durante il Festival di Internazionale. In quell'occasione, intervistato da Gianfranco Franzo, allenario di urbanistica dell'Università di Ferrara, D'Averio parlò di cultura e di architettura, convinto, come dichiarò, che si poteva passare dal ripensamento degli spazi urbani per trasformare l'Italia. Il riferimento allora era al progetto di rigenerazione urbana del mercato coperto, definito da lui una piccola rivoluzione dei ferraresi, che, disse, avrebbero dovuto resistere per portarla fino in fondo, come in me finora non è avvenuto. Saggista, critico d'arte, conferenziere e anche assessore, dal 1993 al 1997, nella giunta a Formentini del Comune di Milano, dove aveva le deleghe alla cultura, al tempo libero, all'educazione, alle relazioni internazionali, da divulgatore, giornalista e conduttore a televisivo, ha inventato un genere, a partire dalle sigle, che prima di lui non c'era, con le sue indimenticabili puntate di Paspartout su Rai 3, seguito poi dal Capitale, nel 2011 su Rai 5 da Emporio d'Averio, una proposta di invito al viaggio attraverso l'Italia. Ha collaborato con riviste quotidiane, pubblicato Pierezzoli, è stato direttore del periodico d'arte, arte e dossier, consulente per la casa editrice Schirà, ha insegnato storia dell'arte presso la Iulm di Milano e storia del design presso il Politecnico di Milano e fino al 2016 ha ricoperto l'incarico di professore ordinario di disegno industriale presso l'Università degli Studi di Palermo, tra le sue collaborazioni anche quella con Vittorio Sgarbi, che lo volle nella sua giunta del Comune di Salemi come bibliotecario, emblematica oggi la frase di Cordoglio che ha voluto dedicargli Alessandro Gassman, Filippo D'Averio, con lui si perdono cultura, eleganza e umorismo, una rarità. E adesso rimaniamo a Ferrara per parlare dell'ex MOF, l'ex mercato ortofrutticolo che diventa così la casa del cinema, la consegna delle chiavi sabato prossimo alla Biennale di Venezia. Oggi c'è stata la presentazione del progetto durante una conferenza stampa, vediamo. La palazzina ex MOF di Ferrara sarà la nuova casa del cinema. L'amministrazione comunale ha dedicato i locali di Corsi Gionzo al progetto Ferrara la città del cinema, che sarà presentato anche nella cornice del Festival del Cinema di Venezia sabato prossimo, il 5 settembre. Presentato il piano per la realizzazione della filiera creativa del cinema e la convenzione per l'assegnazione dei locali che avrà durata di quattro anni. Il simbolico passaggio delle chiavi avverrà proprio nel contesto della Biennale di Venezia e la filiera della formazione cinematografica consentirà a tanti ragazzi dai 14 ai 30 anni di studiare e imparare l'arte del cinema e rientrare in contatto con produzioni, registi e docenti di primo livello. Nel dettaglio gli spazi ex MOF ospiteranno il centro di preformazione attoriale, la seconda sede della scuola d'arte cinematografica Florestano Vancini, gli uffici di comunicazione e marketing della filiera creativa e i corsi serali di cinema aperti anche agli adulti. Qui arriveranno da subito 130 ragazzi, ha affermato Stefano Muroni che della filiera è presidente e ha annunciato l'imminente nascita della prima agenzia cinematografica di Ferrara dal nome Vancini Talent per la scoperta dei giovani talenti e avrà sede sempre negli spazi dell'ex MOF. E rimaniamo in città dove questa mattina è stata presentata sempre in conferenza stampa un'altra iniziativa che porterà in città molti artisti famosi della musica ma anche dello spettacolo. Questa iniziativa si chiama Ciao Fabrizio, è dedicata a Fabrizio Frizzi e con questo evento si vuole tornare a fare solidarietà in questo periodo non facile di emergenza Covid. Allora vediamo e soprattutto sentiamo di cosa si tratta. Si intitola Ciao Fabrizio, lo spettacolo organizzato in omaggio di un personaggio dello spettacolo come Fabrizio Frizzi, donatore attivo nell'ambito del volontariato e della solidarietà, l'iniziativa è in programma fra due sabati il 12 settembre alle ore 21 al Parco Pareschi in corso Giovecca Ferrara che servirà a raccogliere fondi in favore dell'Associazione Malati Alzheimer Ama. Ospiti della serata saranno Riccardo Fogli, il duo Gialisse e altri artisti con collegamenti con Robi Facchinetti, Katia Ricciarelli, Fiordaliso, Albano, Dodi Battaglia e anche Marco Cipollini, Serena Baldaccini e Silvia Mezzanotte. In occasione dell'evento saranno adottate tutte le misure di prevenzione Covid e quindi obbligatoria la prenotazione. L'evento di beneficenza è rivolto a Dama o Divi Ferrara che sarà anche la beneficiaria delle offerte che a fine spettacolo verranno raccolte e serviranno poi per sensibilizzare la cittadinanza sulla grave sindrome dell'Alzheimer e sulle problematiche ad essa connesse. Ancora eventi perché Miss Italia proda per la prima volta a Copparo. Le selezioni quest'anno sono partite con cinque mesi di ritardo. Causa emergenza sanitaria la provincia di Ferrara quest'anno ospiterà ben quattro tappe delle selezioni. La prima delle quali è un vero e proprio debutto sarà infatti Piazza della Libertà a Copparo che ad accogliere le candidate venerdì prossimo il 4 settembre alle ore 15 al centro nuoto Copparo. Arriveranno tutte le ragazze poi via via una serie di eventi che accompagneranno il pubblico nel Copparese fino a poco prima della mezzanotte quando si conoscerà il nome della vincitrice del titolo di Misco Paro 2020 che sarà incoronata dal primo cittadino Fabrizio Pagnoni e anche dalle vincitrici degli altri titoli in paglio. Questa era una delle ultime notizie di questo telegiornale però prima di lasciarci questa sera su Telestense, sulla tv di Ferrara, i programmi alle ore 20, le suggestive immagini di Delta del Po, viaggio nella biosfera e in questa puntata andremo a visitare l'ecomuseo di Argenta alla porta di accesso delle valli, aree ricche di biodiversità e poi vedremo anche un edificio utilizzato per ripopolare il luccio italico nelle oasi di Campotto e poi sempre su Telestense alle ore 21 e 30, spazio dedicato alla rubrica con i piedi per terra, oggi il settimanale di Telestense dedicato ad agricoltura, zootecnia, tradizioni, costume ed enogastronomia del territorio. Bene, con questi appuntamenti televisivi ci salutiamo qui, vi ricordo Telestense.it e i profili social per rimanere aggiornati su tutto quello che accade a Ferrara e provincia. Grazie.